Allora, diciamo che loro sostengono chiaramente che hanno molto da lavorare e che devono perseguire chiaramente la legge. Chiaramente noi siamo d'accordo con loro perché siamo i primi a voler portare avanti la legalità su tutti i tavoli e dappertutto. Tuttavia, insomma, noi ricordiamo che i datori di lavoro appunto sono i curatori fallimentari e noi vorremmo capire esattamente qual è la situazione attuale dell'ATR per parlare di presente dei lavoratori in relazione agli ammortizzatori sociali e per parlare soprattutto di futuro, di futuro rispetto a due strade. La prima è la notizia che sappiamo e cioè che il vecchio gestore, il di Murro, pare che abbia presentato ricorso avverso il fallimento e questa è una notizia su cui noi rappresentando i lavoratori vorremmo comunque dire la nostra perché la gestione scellerata del di Murro la conosciamo bene. Ricordiamo che quello era un capannone che a luglio del 2019 aveva tagliate le utenze. Non c'era la luce in quel capannone. E poi soprattutto parlare di futuro. Noi abbiamo convolto, diciamo, in questo tavolo istituzionale la regione Abruzzo perché per far sì che vengano attirati investitori su Tortoree, sull'azienda vibratiana, sull'ATR che fa carbonio, insomma un materiale attualmente importantissimo che ritroviamo dappertutto, dall'edilizia, alla nautica, all'abbigliamento, addirittura all'arredamento, è necessario fare delle politiche industriali, chiaramente in sinergia con le istituzioni che oggi possono farle. Però se non sappiamo esattamente qual è la situazione attuale dell'ATR, tutto questo diventa molto complicato. Chiediamo, insomma, di superare formalismi burocratici, di remare tutti dalla stessa parte facendolo solo ed esclusivamente per i lavoratori.